un po' di ripasso sulle cose che avevo detto e altre cose invece ne ho dette di nuovo stasera invece facciamo un... iniziamo con un argomento che è un argomento importante cioè quali sono le... ci sono cinque errori sostanzialmente che si possono fare in cine ossia se ne possono fare tanti ma diciamo questi cinque sono quelli che vengono annoverati come i principali e sono i... diciamo delle cadute che certamente bisogna andare e correggere ieri sera dicevo anche una cosa molto importante cioè che dal nucleo fondamentale che è stato l'insegnamento di Buddha sulla pratica di cine e di laktong no? cioè sulla calma dimorante e sulla visione profonda da questo insegnamento si sono sviluppate tutta una serie di... di meditatori, di yogi che hanno sviluppato e integrato l'insegnamento di Buddha l'hanno sviluppato e hanno scritto ad esempio dei commentari bellissimi no? su questi percorsi che sono fondamentali nella meditazione buddista quindi... commentari che sono arrivati ai nostri tempi e che confortano il nostro... il nostro percorso cioè lo rendono lo rendono maggiormente approfondito non che l'insegnamento di Buddha certamente non non fosse valido e approfondito però la presenza di grandi maestri, la presenza di migliaia di meditatori la presenza di... diciamo di un sangha veramente così eccelso ha prodotto tutta una serie di indicazioni e quindi ha prodotto tutta una serie anche di riferimenti che permettono al nostro tempo, alle persone del nostro tempo di entrare meglio nella dinamica di Cine e di Latton quindi... stasera tocco... nell'insegnamento di questa sera tocco queste cinque cadute pigrizia la dimenticanza o la non curanza il torpore e l'eccitazione l'opposto la non applicazione e l'eccesso di applicazione o l'eccesso di intervento io ho scritto anche i nomi tibetani vicino quindi... pigrizia ditemi voi l'elo benissimo la dimenticanza diepa diepa e qua diepa il torpore cimpa jimpa l'eccitazione ghepa o gheva la non applicazione dumace dumace il ma rappresenta in questa in questa frase la negazione e invece l'eccesso di intervento dice che cos'è la pigrizia allora la pigrizia è l'espressione di una mente che in essenza non si applica parliamo di in questo contesto che non si applica virtuosamente alla pratica parliamo nel contesto di cinè non facciamo il discorso generale della pigrizia degli stati di pigrizia delle differenze tra i livelli di pigrizia allora pigrizia è uno stato che può essere più grossolano più sottile di uno stato uno stato mentale che non si applica virtuosamente alla pratica di cinè la dimenticanza è l'espressione di una coscienza o di una mente che dimentica le le istruzioni ricevute dicevo ieri sera e anche nelle serate precedenti quella che ho fatto a gennaio e a febbraio abbiamo fatto sei o sette incontri no? al mercoledì che la che la dimenticanza è qualcosa cioè che non ritenere a mente l'insegnamento è uno è uno dei punti diciamo di caduta è uno degli errori se io non mi ricordo cosa fare non mi ricordo che cosa sto facendo gli insegnamenti che ho ricevuto certamente non posso essere non posso avere la mente ingrempa cioè la mente consapevole quindi ho dimenticanza poi il torpore allora il torpore è uno stato mentale che è molto vicino alla alla stupidità all'ignoranza perché il torpore ha qualcosa di relazione ad esempio con l'offuscamento della mente e poi invece l'eccitazione è uno stato mentale invece decisamente opposto è uno stato mentale che di una mente di una coscienza che è perturbata la non applicazione è l'espressione di una mente che non non considera la validità di un intervento cioè è qualcosa di molto diverso dal secondo punto cioè dalla dimenticanza la non applicazione è qualcosa che porta la mente a non considerare che di fronte ad esempio alla perdita dell'oggetto di meditazione cioè si perde l'oggetto di meditazione e di fronte a questo non si fa nulla non si procede a nessun nessun livello di correzione l'ultimo il quinto è du c'è du c'è è l'eccesso di intervento e questo sembra un po' una banalità invece non lo è affatto l'eccesso di intervento è l'espressione di una coscienza che percepisce erroneamente qualche cosa che deve correggere prima ancora che si manifesti il problema cioè magari nelle meditazioni precedenti in una sessione o in qualche sessione precedente ho avuto uno sdoppiamento dell'oggetto di meditazione parliamo sempre di una meditazione di scine con supporto se sono in una fase energetica di eccitazione posso vedere muovere l'oggetto no? non riconoscendo magari questa fase no? come una fase di eccitazione ripeto magari anche una seconda o una terza volta questa cosa la volta successiva no? la sessione successiva avendo presentificato quello dico vabbè se mi capita questo io apro immediatamente cioè ricorro degli antidoti ma magari la sessione successiva non ha fatto quella dimensione nel divenire però io metto già gli antidoti no? che avrei dovuto mettere nel contesto precedente e quindi questo mi depista ed è un errore un errore fondamentale perché ricordatevi io uso gli antidoti nel momento in cui sono presente con la mente sul fatto specifico sul fatto che sto vivendo beh badate badate che Scinè porta dei benefici incredibili vi parlerò poi dei benefici ma uno dei benefici è certamente percepire in modo diretto l'essenzialità della cosa e non la costruzione della cosa cioè la costruzione allucinatoria sulla cosa e quindi Scinè abitua a percepire quella che viene definita la talità la talità cioè l'essere tale delle cose perché si è addestrata la mente all'oggetto alla concentrazione sull'oggetto quindi questo addestramento che adesso noi facciamo faremo poi magari su un soggetto stasera utilizziamo ancora un supporto magari utilizziamo questo supporto che è la tessera di quest'anno dove c'è curuculle questo è un addestramento capite quando la mente avrà esperito la capacità di fermarsi per 5 10 15 20 minuti mezz'ora su questo aspetto diventerà una mente anche abile a non costruire sopra gli eventi che vivrà anche quando uno sta mangiando quando uno è in macchina o quando sta in vacanza o altre cose capite è un addestramento Scine ed è per questo che viene chiamato la capacità il vivere sciwa no cioè Scine deriva da sciwa e che vuol dire appunto beatitudine vuol dire essere felice ma non è la felicità samsarica e né è invece un termine che può essere un verbo può essere anche un avverbio che vuol dire restare essere in qualcosa quindi Scine possiamo tradurre come la la bellezza dello stare qui e ora allora sono delineate delle delle fasi specifiche di Scine allora la prima fase queste cose ve le voglio poi dire poi più avanti quando abbiamo magari fatto ancora un po' di pratica e così via la prima la prima fase viene detta eh l'esperienza di Scine come una caduta eh di una cascata perché una caduta di una cascata eh voi avete presente no? cos'è abbiamo presente cos'è una cascata è praticamente eh il fatto che uno dice si rende conto che c'è una quantità di pensieri quando uno cerca di fissare la mente di fermare la mente su un oggetto c'è una quantità di pensieri incredibile quindi non c'è soltanto l'aspetto dell'incapacità ma c'è l'aspetto anche di dell'eccitazione c'è lo sforzo qui eccitazione è anche intesa come sforzo capite? cioè io ci metto un quantum eccessivo di energia e questo mi eh devo imparare a controllare bene la mia energia perché comunque lo sforzo è implica una quantità di energia che io poi non ho più per fare altre cose ok quindi Pegrizia è un po' connessa con il fatto che beh ci sono diversi tipi di pigrizia contemplata in cinè ad esempio c'è una pigrizia di non volersi assumere delle responsabilità ben precise di andare avanti nella pratica questa è una pigrizia molto sottile cioè di accettare cinè sì sì faccio cinè però che mi venga come mi viene che in un certo senso combaccia anche con la non applicazione poi c'è una pigrizia che è ad esempio ancora più che è più grossolana che quella di vabbè perché devo fare il cinema mi dedico a delle attività che sono più futili no faccio questo faccio quello perché mi devo applicare a cinè questa è molto più grossolana una pigrizia grossolana sì sì ho fatto il corso di cinema adesso faccio altro me ne sto davanti alla televisione vado a ballare faccio altre cose cioè è una pigrizia grossolana ecco poi c'è una pigrizia ancora che invece è molto più sottile che è quella in cui il praticante prova una volta due tre quattro ovviamente i primi tempi sono i tempi più più brutti perché come ho detto prima una delle classificazioni dei primi livelli di cinema è quello come una cascata quindi il praticante si rende conto no pensa che magari sì sì io appoggio la mente su su questa campana ma io ce la faccio qual è il problema e dopo tre secondi cinque secondi sette secondi si rende conto che invece la mente non si ferma lì vi ho raccontato l'esempio di ieri di quella persona che aveva fatto mindfulness e che aveva imparato fare mindfulness con una un picco d'uva passa no messo nelle mani per carità qualcuno può può anche insegnare noi in quel modo però non è non si fa scine in quel modo cioè deve essere a distanza ci deve essere una posizione del corpo ci deve essere ci devono essere insegnamenti non mi tengo in mano questo e mi concentro su questo chicco di uva di uva passa no e perché lui mi diceva eh io quando la faccio anche a casa si si e poi la mente mi scappa e ho detto ma guarda che milioni di meditatori hanno insegnato no e hanno prodotto dei dei passaggi no e devi avere degli insegnamenti perché se lo vuoi fare se vuoi fare questo devi avanzare effettivamente su dei percorsi devi conoscere che cosa devi fare non puoi basarti su una cosa così minimale e pensare di che la tua mente sia arrivia dei risultati quindi eh un terzo tipo di pigrizia è proprio quello che magari il praticante non riesce ad avere dei risultati o non ha capito bene le istruzioni o non vuole fare eccetera e dice ma no io non ci riesco e non ci riuscirò mai questa è una pigrizia capite è un modo molto sottile per evitare ed è una forma di pigrizia poi abbiamo invece il secondo errore la dimenticanza ecco la dimenticanza invece è qualcosa di diverso la dimenticanza è più in relazione ai primi passi che una persona fa la dimenticanza può essere in relazione a qualcosa che non si è capito no? e che non si sa diciamo a non si sa ad adattare al proprio livello di attenzione di meditazione e quindi la dimenticanza porta certamente a perdere facilmente l'oggetto di meditazione però io ho riscontrato nel corso del tempo che la dimenticanza è qualcosa che appare nei primi tempi nei primi mesi quando poi il lama dà insegnamenti no? e dà risposte alle domande no? questo secondo errore si elimina si cancella facilmente cioè non non risulta più presente quindi è un qualche cosa legato diciamo ai primi tempi altra cosa invece è il torpore e qui per quanto riguarda il torpore noi dobbiamo fare una distinzione perché il torpore diciamo non è una come vi ho detto è una mente che perde per opacità per offuscamento l'oggetto di meditazione però dobbiamo fare una distinzione tra tre livelli il torpore l'offuscamento mentale e la letargia quindi torpore e offuscamento mentale letargia sono delle cose leggermente diverse l'offuscamento mentale o annebbiamento mentale sono delle cose diverse perché ad esempio perché sono cose diverse perché hanno anche delle origini diverse quindi questo processo assorbe una quantità di energie anche diciamo somatiche anche mentali della persona il torpore invece è qualcosa che invece subentra può subentrare ad esempio nella relazione con con dei disturbi mentali cioè un senso di debolezza un senso di un senso latente di depressione un senso di malinconia tutti questi elementi possono giocare per tutti questi elementi hanno la caratteristica del flemma e quindi hanno la caratteristica di opacizzare la mente hanno la caratteristica di frenare la mente quindi non necessariamente nel torpore c'è la dimensione della stanchezza fisica ok non necessariamente anzi direi che le cause del torpore sono sono proprio quelle che che vi ho detto altra cosa è la letargia la letargia è un livello invece ancora più pronunciato di appesantimento della mente quindi anche questo dobbiamo un po' valutare che cosa succede nel momento in cui noi ci mettiamo a meditare e comincia ad esempio a comparire un senso di annebbiamento un senso di torpore e poi piano 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 diventa un abbassamento e una perdita dell'oggetto di meditazione e diventa una perdita della della consapevolezza si va verso il sonno insomma alla fin fine e si si ci si dirige piano piano no? cioè l'annebbiamento non è sonno il torpore non è sonno ma come uno parte e come l'altro segue e come la letargia arriva piano piano uno puff e va giù allora a quel punto lì bisogna mettere no? degli antidoti prima no? che questo avvenga nella fase proprio iniziale no? non nella fase finale perché la fase finale ormai è fatta quindi il mio consiglio adesso poi parleremo degli antidoti è quello di alzarsi sciacquarsi la faccia mettersi in movimento e così via perché quando arriva lo stato in cui uno puff va giù cosa volete mettere degli antidoti? l'antidoto bisogna metterlo prima ci sono delle regole che dei grandi maestri come Atiscia e come altri hanno dato per far sì che tutte le condizioni siano idonee per ottenere dei risultati queste condizioni sono condizioni esterne cioè un ambiente pulito un ambiente silenzioso e la postura del corpo un ambiente anche ben arieggiato perché un ambiente dove c'è poco ossigeno poca aria porta alla sonnolenza all'opacità mentale e quindi tutte queste cose come ovviamente l'alimentazione entrano entrano in gioco ecco non mettetevi dopo mangiato a fare meditazione a fare scine perché non è il momento adatto di sicuro lo stomaco deve essere abbastanza vuoto ecco non completamente ma non pieno ecco ok dopodiché abbiamo l'eccitazione gopa 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 vuol dire anche ridere no ha diversi significati gopa non significa solo essere eccitati quindi vuol dire anche ridere essere così no anche agitato anche leggermente agitato e noi questo ad esempio l'abbiamo visto diverse volte no quando abbiamo fatto le sessioni ma anche ieri sera no ad esempio c'è stata una persona che ha notato che a un certo punto no il cristallo no che era l'oggetto di meditazione che abbiamo considerato incominciava a muoversi ovviamente non si muove il cristallo il cristallo è sempre lì fermo però è la percezione di un io che dice cerca di finire cerca di sbrigarti no cerca di concludere e allora questo movimento che si percepisce con gli occhi o con la propria sensibilità è un aspetto di una di un dinamismo di un'eccitazione quindi è ovvio che bisogna mettere anche qui degli antidoti e non aspettare che certe cose vadano avanti dovete sempre pensare che l'ego è presente per depistare Shiné cioè per depistare la vostra azione di praticanti di Shiné cioè l'ego ha una ha un'opposizione in Shiné l'ego è la la sostanza la la percezione diciamo di una mente che vuole dominare vuole comandare e vuole entrare su processi decisionali che non gli competono che non gli competono mentre invece Shiné porta l'ego a rapportarsi a dei livelli che può fare però quest'ego l'abbiamo gonfiato noi gli abbiamo dato noi potere ecco perché l'ego depista in tutti i modi nel percorso di meditazione il praticante ad esempio con le emozioni l'emozione di voler ottenere qualche cosa velocemente questa è un'emozione oppure l'emozione di dire non stai concentrandoti sufficientemente e quindi capite Shiné ha la capacità di pulire la mente calma dimorante vuol dire qualche cosa che non è agitazione che non è sovrapposizione di idee di concetti quando dicevo prima la capacità di percepire la cosa così com'è ok quindi noi abbiamo all'interno un nemico che abbiamo gonfiato e dobbiamo procedere non a eliminarlo non a strozzarlo ma a renderlo utile nelle funzioni che lui sa fare non in quelle che si arroga di fare ok non è in grado di interpretare le emozioni l'ego non è in grado di costruire percorsi di conoscenza e di saggezza non è in grado di conoscere al di là del suono delle parole che cosa sta dicendo veramente quella persona capite però è in grado di elefantizzare qualcosa che viene magistralmente interpretato come vero ieri sera parlavo parlavo no vi ho dato un esempio no a vent'anni ventidue anni ventitré anni ho conosciuto mia moglie non io eh ah com'era bella com'era simpatica mi sono subito innamorato a cinquant'anni mamma mia che barba ma dov'è finito dov'è questo è l'ego questo è l'ego che prima ti fa credere che una cosa sia attraente che sia piacevole che sia condivisibile e poi con la stessa identica facilità ti fa credere che non vale più niente è un modo tremendo di percepire la realtà questo dell'ego è il modo in cui un essere può uccidere una persona e poi dire ma cosa ho fatto però in quel momento l'ego ti ha portato alla rabbia ti ha portato all'ira all'opposizione di quella persona tanto da prendere un coltello e ucciderla e poi dopo con la stessa tranquillità l'ego ti dice ma cosa ho fatto ma io non volevo capite essere schiavi dell'ego è la cosa più tremenda la maggior parte dei delitti che accadono hanno questa connotazione quindi dobbiamo fare molto molta molta pratica di scine perché certamente noi non siamo persone che utilizziamo la violenza i coltelli o che uccidiamo qualcuno ma dobbiamo fare attenzione agli stati mentali perché i nostri stati mentali siano sempre meno soggetti alla sofferenza e sempre più soggetti alla felicità ok il quarto errore è la non applicazione questo l'ho già detto in questo ambito la non applicazione è soltanto il fatto che non non c'è volontà c'è una scarsa volontà c'è una scarsa determinazione si perpetua l'atteggiamento di fare nello stesso modo come si fa nelle cose nella vita così tanto al chilo tanto per fare ma si provo a fare poi vediamo magari avendo ricevuto gli insegnamenti che cine è un percorso però e l'ultimo l'eccesso di intervento è come vi ho detto la il fatto di non avere un potere di di giusta concentrazione se questa cosa non c'è non devo porre nessuna azione nella difesa o nella prevenzione di qualcosa che non esiste ok perché devo porre qualcosa quando qualcosa non esiste quindi questi stati mentali connessi all'eccesso di intervento sono 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 dei depistaggi sulla concentrazione di fatti di fatto il punto che è proprio lì vedi la discrepanza perché in sé non è sbagliato questo processo e adesso ti faccio capire perché la meditazione di cine utilizza o un supporto o come vi ho detto o è senza supporto no si parla da un punto di vista fisico o un supporto fisico o non ha un supporto fisico quindi si usano altri tipi di supporto e adesso ne vedremo alcuni perché si fa questo non per diciamo valutare la capacità della mente di stabilizzarsi sull'oggetto non è solo questo ma è un percorso che permette di arrivare alla mente stessa cioè l'obiettivo è conosci te stesso e non conosci fisicamente te stesso conosci la tua mente è vero che è con l'actone che si arriva alla profondità della natura vacua dei fenomeni e che cine è la parte per così dire introduttiva ma è una parte introduttiva che porta lei stessa come parte introduttiva porta a dei risultati ben precisi quindi cine non è soltanto un livello propedeutico perché dei tre livelli di cine cine con supporto cine senza supporto c'è un terzo livello di cine che è il permanere nell'essenza il cosiddetto cine dell'essenza cine dell'essenza è un livello altissimo di mantenimento di consapevolezza no perché va a toccare delle coscienze molto profonde come la laia vinnana che è una coscienza che è un po' un serbatoio che è un insieme di processi che noi abbiamo stabilito quindi la relazione è con l'oggetto ma per arrivare alla nostra mente se tu bypassi questa relazione che è una relazione triadica tu elimini un segmento importante del processo mi sono spiegato cioè io devo realizzare qualcosa della mia mente no ad esempio io posso meditare un'emozione e questo è cine senza senza supporto medito il fatto che sono troppo stupido o troppo stupida medito il fatto che mi arrabbio molto l'ira no il fermare la mente sull'ira non mi porta a entrare nell'ira ma diventa un tramite utile quindi un utile mezzo per arrivare alla mia mente se io medito sulla mente devo avere una relazione perché la mia mente non è dov'è la mia mente che cos'è mente mente è la natura luminosa ma dove la vado a prendere questa natura luminosa mi seguite su questa parte dove vado a prendere la mia natura l'essenza luminosa della mia mente dove la vado a prendere devo avere un passaggio da qualche parte che mi permette di arrivare perché essendo di natura vacua non la trovo quindi è importante scusa quindi quando tu salti questo passaggio ti precludi un risultato ferma la tua mente sull'oggetto che hai scelto quindi o qualcosa di fisico o qualcosa di non fisico e partendo da quello piano piano arriverai eliminando tutte le ostruzioni cioè i concetti le sovrapposizioni le false temporalità che si aggiungono arriverai ad avere un passaggio diretto quando questo avviene ci sono circa nove step nel percorso di scine quando arrivi già soltanto al quinto al sesto step sei in una ottima condizione che ti permette di avvicinarti molto di più a scine dell'essenza perché la tua mente non è più attaccata dai concetti non è più attaccata dai pensieri non è più attaccata dalle emozioni e anche nella tua vita ordinaria quando senti qualcuno che ha commesso qualche cosa di tremendo non è più un tuffo al cuore non perché sei diventato insensibile ma perché mantieni un corretto livello di amorevolezza verso tutti gli esseri e magari verso anche quello che ha commesso quella quella cosa negativa non so se mi sono spiegata è un allenamento cioè adesso noi io uso le parole ma adesso dovremmo poi metterci e meditare un pochettino ricordatevi in scine quanto più voi date tanto più voi ricevete non c'è una capite non c'è un va io ho dato tanto non ho avuto niente perché la mente piano 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 si si adatta e porta risultati ok bene a questo punto facciamo un po' di pratica